e benvenuti tutti quanti in questo video tutorial perché oggi carolina vi farà vedere come si trucca in make up. Si chiama make up? Allora in questo video vi mostro io di mattina come mi trucco va bene? Qui c'ho la mia assistente che mi dà le cose. Abbiamo uno stonche, questo è uno stai, stai, stai zitto. Che è questa cosa? Questo è un fonti tinto. Vedete questo è un fonti tinto, questo serve per questo è lo spongebob. Questo mi dico cosa devo fare? Allora attenzione con calma, facciamolo questo lo apro. Un po' di cacca, c'è un po' di tuzzima attorno, lo spuzzo qua sopra e lo assaia. Così un po' vedete come ho spuzzato ragazzi, vedi? Allora io mi questa faccia, dove si mette questa? Tutta la faccia. Tutta la faccia? Eh sì. Sono fatta così, sì. Cos'è faccia? Vado? E ora? Eh ma te la devi stendere, bravo. Ma mi devo aggiungere la lenda. Ma mi hai fatto mettere il sacco, che combina? Tutta la faccia. Tutta la faccia. Probato. Amici, mi sentite a dire, io quando mi trucchi, ho un altro. Aspetta. La fronte, la fronte. La fronte, la fronte, la fronte. Amici, comunque guardate, io vi imparate, fate così, vi truccate, e vi esce poi, diciamo, il viso più scuro, come se una signora. Troppo bello. Poi, allora, postiamo il guazzacca, che è questa cosa? Allora, dobbiamo prendere questa, questa paletta. A scopernate, ne abbiamo sulla paletta. E tra tutta la roba rotta, che teniamo caroli delle cose. Come è la roba rotta? Come è la roba rotta? Cazzo la facciamo, ok? Ti devi mettere di qua e di qua. Segui il tuo colore. Devo seguire il colore, amici, hanno l'imbloccio, la pinza e la pancia. Tenere più scuro. Questo qua mettiamo. Va bene così? Messi il pennello? E prima o poi che la popolizza, che fai? Che cosa fai? Fai il picchietto, tutto così cade tutto l'eccesso. È caduto l'eccesso. Allora, vado, dove si mette? Devo fare il popo. Amici, quindi prendete il pennello, proprio fatto così, fatto. C'è? Ma questa è proprio una trova, non mi ha fatto questo fratello. Ma che resta fai? Non mi ha visto. Ma che spazio mi hai fatto con la pinacca? E ora lo devo spannare. Così insieme. È bello. Perché non mi ha stupiato, ma che è? Ma che spazio mi è? Amici, voi fate bene così. Fate così, quello poi si spanna. Si spanna. Wow, su una signora, guarda. Suona a bambola. Suona a bambola o no? Allora, arrivate a questo punto che avete messo il plus. Metti un po' di illuminante. Metti un po' di illuminante. Cazzo ormai non manca la luce a casa. Voi mettete questo e vi illuminate solo voi. Va bene. Questo si chiama illuminante della Secleclam. Della Secleclam. Se. Della Secleclam. Se. Se. Secleclam. L'arravo già aprite. Piano piano. Piano piano. Oh, che luce. Un po' Fanno daqui a venire, diciamo così. Poi se non vi serve più lo postate. Dopo, come lo stendo? Galmente con il dito Faccio.. Con il dito faccio così. Bravo. Ok, questo è il punto luci l'affreddata può luscitare il naso. mi sento come quando si è intenzionata, così guardate, è illuminata si è illuminata che spanna? stendete bene mi raccomando, vado giù a casa e fate proprio tale e quale a me adesso gli occhi non li facciamo io di solito non li faccio, perché gli occhi sono dipinti la bocca amici, noi utilizzeremo in questo caso una russetta che si chiama della Wicon Long Listing Ding Liquid Listing Stain lo svidate con calma tinta labbra tinta arrivato ad un certo punto vi mettete i russetti è facile io ho tanti anni fa mettevo aspettate così adesso ma cos'è? cos'è? dai è la prima forma cosa ci devo fare? ma buona così ragazzi voi fate pure voi tutto però magari metti bene ecco qua quando si uscite così di casa si è fortunata allora guardate va bene così? metti meglio in che senso? metti bene tutto il labbro devo vitturare e cosa è questo? se non è ah ora sono una signora eh guardate non mi riconosco più guardate come sono fatto da donna guardate che fermano eh mamma mia esagerata mi raccomando voi mettete questo qua della Wicon Sticky Stack dopo aver messo il russetto basta immagino che tra la mattina torna il mousse e la mattina torna il mousse è basta comunque vedete che il trucco è molto fine è molto sistemato sistemato ovviamente poi c'è trucco e trucco questo trucco è più pesante infatti ho fatto guarda mille roba mi faccio ma per lì è questa cosa è molto morbida è morbidissima allora a questo punto prendiamo la matita prendiamo la matita guarda che suda è un mostro questo si chiama Kiko Magap Milano Ultraglossi allora guarda questo punto questo è quello che metto la matita e la mettiamo davanti al mousse così la mantenete così così questo serve per fare il mousse incinto che è successo? no bellissimo perfetto ragazzi come va? no perfetto va buono stufato no mamma mia sì allora ragazzi voi ovviamente fatele più precise perché sennò guarda cazzo rimasto fuori cazzo guardate poi con gamba ah vedete una bella cristiana guardate non ci vuole niente è un tutorial semplice questo per i trucchi più complessi è diverso questo è molto semplice è pesante come trucco è molto pesante questo cazzo se siete a sciclo un malessere guardate allontano ma vorrei guardate come sta andando eh se siete a sciclo un malessere fate questo trucco qua così pesante così appena dal lago subito va a prezzo invece siete a sciclo un buon guaglione mettete solo un po' di tinto tinto pum 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 e basta ci mi asci da fai fighino questo allora per questo tutorial ci fermiamo qua mandatemi le foto su instagram di come vi siete truccati voi che io poi vi do il voto da 1 a 10 va bene fatemi sapere qual altro tutorial volete vedete a disposizione non c'è problema fai mangiare qua tutt'anzo grazie